Palermo e Udine, due punti diametralmente opposti ma scelti dalla famiglia Graziano per cercare di salvare il patrimonio, accumulato negli anni con la collaborazione di altre famiglie mafiosse come Madonie e Galatolo. A questo è giunta la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo che ha disposto il sequestro di ben 81 immobili, fra i cui appartamenti e garage, un'auto e un motoscafo. Una ventina su una Tavagnacco, provincia di Udine, dove a sede anche una società, la Nord Costruzioni, pure questa sequestrata. In particolare al centro delle indagini ci sono i benitri, i nipoti di Vincenzo Graziano, da due anni a regime del carcere duro con l'accusa di associazione mafiosa ed alcuni pentiti come Galatolo o Reo di aver nascosto il tritolo che nel 2012 doveva essere utilizzato per un attentato al PM Nino Di Matteo. Si tratta di Camillo e Massimiliano Graziano, figli di Domenico, morto nel 2013 proprio a Udine e assolto dall'accusa di mafia. Camillo sarebbe stato coinvolto nell'operazione Apocalisse mentre Massimiliano, ritenuto socialmente pericoloso, sarebbe, secondo gli inquirenti, coinvolti nella gestione degli affari di famiglia. Ma il sequesto riguarda anche Roberto Graziano, figlio di Giovanni, recentemente condannato a nove anni e quattro mesi per associazione mafiosa, estorsione e concorrenza sleale. Inoltre avrebbe imposto ad alcuni esercizi commerciali le slot machine di società a lui riconducibili e avrebbe richiesto anche il pagamento del pizzo.